Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati quindi come promesso nello scorso video su Metin2. Quello che voglio fare in questo secondo video è giocare all'evento Trova il Re. Ho la possibilità qui su questo personaggio di fare con due mazzi, facciamo il primo, non leggo le regole, non perdo tempo a reggere le regole, tanto chi gioca a Metin lo conosce, io non lo conoscevo onestamente. In questo turno ti verranno dei tratti 30.000 Yang e un mazzo del Re. Vuoi giocare adesso? Sì. Allora, devo mettere l'1 nella mia carta, ci sono 5 file, vediamo. Prima fila, oh, l'ho azzeccato, 1 e 1. Che culo. Andiamo nella seconda fila, c'è il 4. Peccato, il valore della tua carta è inferiore. Allora, ora faccio un imbroglio, visto che non è a tempo. Metto, scrimo, seconda fila, prima, casella, e il 4. Se può servirvi. Vediamo qua. Che è il 3, quindi, è la quarta fila, il 3. Prima fila, prima, casella, il 3. Però un altro 1, lo voglio ingarrare, dai. Vediamo qua. Che è il 3, pure qua. Quindi, prima, fila, seconda, casella, il 3. Il 2. E niente, ho perso l'opportunità. Quindi, allora, prima fila. C'è stato un errore con questo video. Mi sono dimenticato che io ho UBS piazzati per far iniziare... Per far iniziare la registrazione, l'1 e il 2, per far prima. Quindi, ho sbagliato. Premendo 1, 2, ho stoppato la registrazione. Quindi, non si è visto niente. Praticamente, dal mazzi del re, ho preso solo. Fatto anche con l'altro personaggio, 50.000 young. E poi, un'altra possibilità, più questa, di giocare. Quindi, ahimè, perdonatemi, vedrete solo questa partita per intera. Ho aperto anche le uova pasquali, i forzieri del demone. Che avevo fatto la scalata, mi è uscito solo roba per pet. Qui, uova, invece, una perla blu e anche il transfer bonus costume. Che non so attualmente quanto costi. Però io mi ricordo tipo 180, 2 won, l'ultima volta, una roba del genere. Quindi, perdonatemi, purtroppo ho fatto questo errore. Adesso cercherò di non... Meno male che ho preso quest'ultimo mazzo. Se no, mi mandava all'aria completamente il video. Vi farò questo completo. Avevo indovinato pure il K, il re. E avevo fatto 340 punti, però mi ha dato sempre il coso di brunzo. Però, purtroppo, perdonatemi, ho commesso questo errore. Iniziamo la partita. Questa volta non scriverò uno, ma me le segno a lettere. Così non si toglie la registrazione. Ho dimenticato, ho fatto questa dimenticanza. Allora, l'uno qui esce sempre. Poi... Vediamo nella seconda fila, seconda casella, c'è il 4. Quindi, niente, adesso lo scrivo a lettere. Allora... Seconda... Fila... Casella... 2... Il 4 lo posso scrivere al numero perché non mi viene. Niente, devo modificare questi pulsanti. Perché se no mi rovinano il video. Allora... Facciamo... Terza casella, c'è l'1, bene. Andiamo... Quarta casella... Che è quarta fila... Terza casella. Per il 4, niente. Quindi, quarta fila... Quarta fila... Quarta fila... Quarta fila... Terza... Casella... Del 4. Vediamo... Quinta fila... Seconda casella... C'è il 5. Vediamo... Quinta fila... Il 5. Adesso tocca al 2. che non mi è mai uscito. Andiamo... Prima fila, ultima casella, c'è l'1, bene. Facciamo la terza fila, ultima casella. C'è il 2. Ok, facciamo un po' di punti, facciamo terza fila, quarta casella, c'è l'uno, bene, quarta fila, quarta casella e il quattro, è sempre sto quattro, mi esce, quindi. Quattro fila, quattro casella e il quattro. Andiamo col tre, allora il tre, seconda fila, ultima casella, c'è il due, bene. Poi, seconda fila, casella quattro, c'è il tre, eh però qui faccio pochi punti, mi sa, quarta casella, quarta fila voglio dire, facciamo ultima casella, c'è l'uno. Poi, quinta fila, facciamo quarta casella, c'è il re, quindi ricordiamocelo, mi dà cento punti. Quindi, quinta fila, casella, quattro, c'è il re. Poi, andiamo col quattro, seconda fila, casella due, c'è il quattro, eh già mi ha dato il cinque, vabbè, faccio i quattro che avevo trovato, mi faccio col cinque. Quindi, quarta fila, terza casella, c'è il quattro, e già me l'ha fatto finire, vabbè, allora farò due sessanta punti, poco, poco, vabbè. Quinta fila, casella quattro, c'è il capo. Duecentosessanta punti. Peccato, proprio il, il punteggio pieno che avevo fatto, cioè, il punteggio più alto, del 140, non si vedrà in video, non so stato io fisso. La mia vincita, un altro, questo lo riusciamo ad aprire in video. Cinquantamila young, niente, quindi il video finisce così, mi dispiace per... Facciamo così, dai. No, no, vabbè, no, i cormi li voglio conservare per un prossimo video, quindi... Solo un'apertura, mi spiace, purtroppo ho commesso io quell'errore, per... Vabbè, video più corto, allora, dai. Non sorbirete il video più lungo. Per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye! Ciao! Ciao! Ciao